Lezione 1. Vantaggi del risparmio energetico. Sapevi che l'utilizzo di elettrodomestici a basso consumo energetico può farti risparmiare sulle bollette elettriche a lungo termine? Davvero? Questo è interessante. Come funziona? Gli elettrodomestici ad alta efficienza energetica consumano meno elettricità, quindi costano meno per funzionare. Questo ha senso. Allora è una situazione vantaggiosa per tutti. Assolutamente. Inoltre, è anche vantaggioso per l'ambiente. Mi piace l'idea di risparmiare denaro e ridurre la mia impronta di carbonio. Le lampadine a risparmio energetico, ad esempio, consumano meno energia e durano più a lungo. Questo è conveniente. Dovrei prendere in considerazione l'idea di passare a quelli. È un piccolo cambiamento che può fare una grande differenza nel tempo. Ci sono altri suggerimenti per il risparmio energetico che puoi condividere? Anche l'uso di prese multiple e lo spegnimento dei dispositivi quando non vengono utilizzati può essere utile. Buono a sapersi. Sarò più attento al mio consumo di energia. Un'altra idea è quella di isolare adeguatamente la casa per ridurre i costi di riscaldamento e raffreddamento. Sembra un modo pratico per risparmiare energia. Lo è. Inoltre, può anche rendere la tua casa più confortevole. Cercherò sicuramente di migliorare l'isolamento della mia casa. I termostati intelligenti sono un'altra opzione di risparmio energetico che vale la pena considerare. Come funzionano? Regolano la temperatura in base alle tue preferenze e risparmiano energia quando non ci sei. Questo è conveniente. Li controllerò. E non dimenticare di scollegare i caricabatterie e gli elettrodomestici quando non sono in uso. Prenderò l'abitudine di farlo. Ogni piccola cosa aiuta. Questo è lo spirito, Anna. Piccole modifiche possono portare a risparmi significativi. Ora sono motivato a essere più attento all'energia. E' bello sentirlo. Insieme possiamo fare la differenza. Assolutamente, John. Risparmiamo energia e denaro. Inoltre, contribuiremo a un futuro più verde. E' qualcosa di cui possiamo essere orgogliosi. Facciamolo. Sono contenta che siamo sulla stessa lunghezza d'onda, Anna. Facciamo in modo che accada. Lezione 2. Esplorazione delle risorse disponibili. Ci sono così tante risorse disponibili, ma non abbiamo ancora esplorato molto. Questo è vero. Vale la pena investire del tempo per familiarizzarci con loro. Potremmo acquisire nuove competenze o acquisire conoscenze attraverso corsi online. Questa è un'ottima idea. Possiamo migliorare la nostra esperienza comodamente da casa. Le biblioteche sono anche risorse preziose per libri e materiale didattico. Sono d'accordo e ci forniscono una grande quantità di informazioni da esplorare. I forum e le community online sono ottimi per entrare in contatto con persone che la pensano allo stesso modo. È incredibile come possiamo imparare dagli altri e condividere le nostre esperienze. I podcast e i video didattici offrono un modo accessibile per assorbire nuove informazioni. Mi piace ascoltare i podcast durante i miei spostamenti. È un uso produttivo del tempo. Le piattaforme di social media possono essere utili anche per scoprire contenuti didattici. È vero, possiamo seguire esperti e organizzazioni per rimanere aggiornati. Non dimentichiamo le conferenze e i workshop pubblici nella nostra comunità locale. Partecipare a questi eventi può ampliare i nostri orizzonti e metterci in contatto con gli altri. I musei e le gallerie d'arte sono ricche risorse per la conoscenza culturale e storica. Esplorare le mostre può essere sia educativo che stimolante. Le biblioteche e gli archivi online forniscono l'accesso a preziosi materiali di ricerca. Questo è conveniente. Possiamo approfondire gli argomenti che ci interessano. Le reti professionali e le associazioni di settore offrono opportunità di crescita. Costruire connessioni può aprire le porte a nuove possibilità. Infine, non sottovalutiamo il potere dell'autoriflessione e delle esperienze personali. È vero, anche l'introspezione e l'apprendimento dai nostri viaggi sono risorse preziose. Abbiamo una vasta gamma di risorse a portata di mano. Sfruttiamole al meglio. Assolutamente, John. Abbracciamo l'apprendimento permanente e scopriamo nuovi orizzonti. Sono entusiasta di intraprendere questo viaggio di esplorazione e conoscenza. Anch'io, John. Andiamo ad ampliare la nostra comprensione e a crescere insieme. Grazie per questo, Anna. Cogliamo le opportunità che ci attendono. Lezione 3. Serene Candle Colors Le candele creano un'atmosfera rilassante. Puoi aggiungere colori anche alle candele? Sì, puoi trovare candele in vari colori per soddisfare il tuo umore e il tuo arredamento. Sembra adorabile. Quali colori mi consigliate per un'atmosfera serena? I blu e i verdi morbidi evocano un senso di tranquillità e relax. Questi colori sembrano perfetti per creare un'atmosfera tranquilla. Puoi anche considerare i gialli pallidi o i neutri caldi per un'atmosfera accogliente. Anche a me piace l'idea di un'atmosfera calda e accogliente. Se vuoi aggiungere un tocco di romanticismo, prova i rosa tenui o i viola. Ciò potrebbe creare un ambiente romantico e rilassante. Assolutamente. Le candele in tonalità pastello possono anche essere visivamente piacevoli. Sembra che le candele possano migliorare sia gli aspetti visivi che quelli emotivi di uno spazio. Sicuramente. Hanno un modo per creare l'atmosfera e creare un ambiente sereno. Esistono fragranze specifiche che si abbinano bene a candele di diversi colori? Puoi abbinare profumi floreali a candele color pastello per una combinazione armoniosa. Questo ha senso. È come creare un'esperienza sensoriale coesa. I profumi terrosi come il legno di sandalo o la vaniglia possono completare le candele dai colori caldi. Posso immaginare come gli aromi e i colori si fondono insieme per creare un'atmosfera accogliente. È un bel modo per migliorare l'atmosfera di qualsiasi stanza. Sicuramente prenderò in considerazione l'idea di incorporare candele colorate nell'aredamento della mia casa. Sono sicuro che aggiungeranno un tocco di serenità e bellezza al tuo spazio. Grazie per il suggerimento, Anna. Sono entusiasta di provarlo. Benvenuto, John. Goditi la luce tranquilla delle tue candele colorate. Lo farò, Anna. Lo scopo è creare un rifugio sereno con il potere dei colori. Lezione 4. Racconti di viaggi estivi Hai viaggiato l'estate scorsa? Sono curioso di conoscere le tue avventure. Sì, sono andata in vacanza al mare con la mia famiglia. È stato fantastico. Sembra incredibile. Quale spiaggia hai visitato? Siamo andati su una bellissima isola tropicale con sabbia bianca incontaminata. Wow, riesco quasi a immaginare le acque turchesi e le palme. Era come un paradiso. Abbiamo passato le nostre giornate nuotando e prendendo il sole. Deve essere stato così rilassante. Hai provato qualche attività acquatica? Sì, abbiamo fatto snorkeling, e abbiamo visto pesci colorati e barriere coralline. Lo snorkeling è un ottimo modo per esplorare il mondo sottomarino. Assolutamente. Era come nuotare in un acquario. Hai visitato qualche altro posto sull'isola? Siamo andati su un sentiero escursionistico, e abbiamo scoperto una cascata nascosta. È stato mozzafiato. Sembra un posto pittoresco. La natura ha così tanto da offrire. Abbiamo anche esplorato i mercati locali e provato il delizioso cibo di strada. Questo è uno dei modi migliori per vivere la cultura e la cucina. È stato un viaggio memorabile pieno di relax e avventura. Sono felice che tu ti sia divertito molto con la tua famiglia. Grazie John. Hai viaggiato di recente? Sì, sono andato in gita in montagna. I panorami erano spettacolari. I viaggi in auto sono molto divertenti. Sei andato a fare escursioni o in campeggio? Le abbiamo fatte entrambe. Abbiamo camminato attraverso sentieri panoramici e ci siamo accampati sotto il cielo stellato. Sembra un'esperienza incredibile, stare vicino alla natura. È stato piacevole disconnettermi dalla città e immergermi nella natura selvaggia. Posso immaginarlo. La natura ha un modo per ringiovanire l'anima. Anzi. L'estate è perfetta per esplorare nuovi posti e creare ricordi duraturi. Assolutamente. È una stagione di avventura e relax. Sono contento che entrambi abbiamo avuto dei piacevoli viaggi estivi. Anch'io, John. Alla gioia dell'esplorazione e alla bellezza della natura. Grazie per questo, Anna. Che i nostri viaggi futuri siano pieni di esperienze ancora più incredibili. Lezione 5. La ricerca della conoscenza. Abbiamo imparato molto, ma c'è ancora tanto da scoprire. Continuiamo a cercare? Concordato. Continuiamo la nostra ricerca di conoscenze e nuove esperienze. Possiamo approfondire diversi argomenti e ampliare la nostra comprensione. Sì, c'è sempre qualcosa di nuovo da imparare ed esplorare. Possiamo leggere libri su vari argomenti e ottenere approfondimenti da diverse prospettive. Questo è vero. I libri sono un tesoro di saggezza e informazioni. Possiamo anche intrattenere conversazioni significative con esperti in diversi campi. Le conversazioni offrono preziose opportunità per scambiare idee e ampliare i nostri orizzonti. I corsi e i tutorial online possono aiutarci ad acquisire nuove competenze e competenze. L'apprendimento di nuove competenze può aprire le porte a interessanti opportunità. Non dimentichiamo di partecipare a workshop e seminari per migliorare le nostre conoscenze. I workshop possono fornire esperienze di apprendimento pratiche e metterci in contatto con persone che la pensano allo stesso modo. Possiamo esplorare culture e tradizioni diverse attraverso viaggi e immersioni. Viaggiare ci permette di acquisire una comprensione più profonda del mondo in cui viviamo. Impegnarsi in hobby e attività creative può suscitare la nostra curiosità e accendere la nostra passione. Perseguire le nostre passioni porta gioia e appagamento alla nostra vita. Abbracciamo la curiosità e affrontiamo ogni giorno con sete di conoscenza. La curiosità mantiene la nostra mente acuta e il nostro spirito vivo. Insieme, possiamo intraprendere un viaggio di scoperta e crescita che durerà tutta la vita. Siamo partner in questa ricerca, John. Continuiamo a cercare e non smettiamo mai di imparare. Assolutamente, Anna. Alla ricerca infinita della conoscenza e alle meraviglie che ne derivano. Lezione 6. Definire le aspettative Quando si inizia qualcosa di nuovo, è utile farsi un'idea di cosa aspettarsi. Non credi? Assolutamente. Avere delle aspettative può fornire un senso di direzione e preparazione. È come avere una tabella di marcia che ci guidi lungo la strada. Sapere cosa aspettarci può anche aiutarci a prepararci mentalmente ed emotivamente. Riduce l'incertezza e ci dà un senso di controllo. È importante bilanciare le aspettative con una mente aperta alle sorprese e agli adattamenti. Questo è vero. La flessibilità è fondamentale quando le cose non vanno esattamente come previsto. La definizione di aspettative realistiche previene delusioni e frustrazioni. Dovremmo raccogliere informazioni e chiedere consigli per formulare aspettative accurate. La ricerca e l'apprendimento dalle esperienze altrui possono darci informazioni preziose. È come raccogliere i pezzi di un puzzle per creare un'immagine più chiara. Possiamo porre domande e chiedere consigli a coloro che hanno vissuto situazioni simili. La loro saggezza può aiutarci a stabilire aspettative più consapevoli. Dovremmo anche essere consapevoli che le aspettative possono evolversi man mano che impariamo e cresciamo. Vero. Modificare le nostre aspettative lungo il percorso è un segno di adattabilità. È importante essere flessibili e aperti a nuove possibilità. Stabilendo aspettative realistiche, possiamo affrontare le sfide in modo più efficace. E celebra i traguardi raggiunti con un senso di appagamento. Ricordiamoci di comunicare le nostre aspettative alle altre persone coinvolte. Una comunicazione chiara favorisce la comprensione e l'allineamento. Garantisce che tutti siano sulla stessa pagina e lavorino per un obiettivo condiviso. La definizione delle aspettative è uno strumento prezioso per la crescita personale e professionale. Ci aiuta a percorrere il viaggio con chiarezza e determinazione. Sono d'accordo, John. Consentitevi di fissare aspettative realistiche e di accettare l'avventura. Grazie per questo, Anna. Possano le nostre aspettative guidarci verso il successo e la realizzazione. Lezione 7. Pendolarismo mattutino. Devo partire alle 9. Quanto tempo ci vorrà per raggiungere il centro? Di solito ci vogliono circa 30 minuti per arrivarci, a seconda del traffico. Ok, allora dovrei programmare di partire verso le 8 e 30. Questo dovrebbe darti abbastanza tempo per raggiungere la tua destinazione senza fretta. Mi assicurerò di tenere conto del tempo di buffer in caso di traffico imprevisto. Questa è una buona idea. È meglio arrivare presto che tardi. Controllerò le condizioni del traffico prima di partire per vedere se ci sono ritardi. Tenere d'occhio gli aggiornamenti sul traffico ti aiuterà a prendere decisioni informate. Potrei prendere in considerazione l'idea di prendere una strada diversa in caso di forte congestione. L'esplorazione di percorsi alternativi a volte può farti risparmiare tempo. Devo prendere l'autostrada o le strade locali per raggiungere il centro? L'autostrada è generalmente più veloce, ma può diventare congestionata nelle ore di punta. Allora mi limiterò alle strade locali. Potrebbe essere un viaggio più rilassato. Fai solo attenzione a qualsiasi costruzione o deviazione lungo la strada. Lo terrò a mente e modificherò il mio percorso se necessario. È sempre bene essere preparati e adattabili. Grazie per il consiglio, Anna. Mi assicurerò di pianificare di conseguenza i miei spostamenti mattutini. Benvenuto, John. Buon viaggio e spero che tu trascorra una giornata produttiva in centro. Lo apprezzo, Anna. Buona giornata anche a te. Grazie, John. Abbi cura di te. Anche tu, Anna. Arrivederci per ora. Lezione 8. In direzione del centro città. Quale autobus devo prendere per raggiungere il centro della città? Sì, puoi prendere l'autobus 14 o l'autobus 22. Entrambi gli autobus sono ugualmente convenienti e puntuali? L'autobus 14 tende ad essere più frequente, ma l'autobus 22 ha meno fermate lungo la strada. Capisco. Quindi, l'autobus 14 potrebbe essere un'opzione migliore nelle ore di punta? Questo è corretto. Di solito è meno affollato e arriva più frequentemente. Quanto dura di solito il viaggio su entrambi gli autobus? Ci vogliono circa 30 minuti su entrambi i percorsi, a seconda del traffico. Non è poi così male. Allora cercherò di prendere l'autobus 14. Ottima scelta e un'opzione affidabile per raggiungere il centro della città. Sai se accettano contanti o solo pagamenti con Tectols? Entrambi gli autobus accettano contanti, ma sono preferiti i pagamenti con Tectols. Mi assicurerò di avere dei contanti a portata di mano, per ogni evenienza. È un'idea intelligente. Essere preparati è sempre una buona cosa. Ci sono punti di riferimento o fermate a cui devo prestare attenzione? Sì, c'è un importante centro commerciale vicino al centro della città. È un buon punto di riferimento. Lo terrò d'occhio per sapere quando scendere dall'autobus. Questo è un punto di riferimento affidabile per guidarti. Grazie per le informazioni, Anna. Apprezzo il tuo aiuto. Benvenuto, John. Sono felice di averti potuto aiutare. Ora prendo l'autobus 14 e mi dirigo verso il centro della città. Ti auguro una buona giornata. Buon viaggio, John. Goditi il tuo tempo nel centro della città. Grazie, Anna. Abbi cura di te. Anche tu, John. Ti auguro una splendida giornata. Arrivederci per ora. Lezione 9. Dietro i punti salienti Assolutamente. È importante ricordare che le persone condividono solo i momenti salienti della loro vita. Questo è vero. I social media spesso ritraggono una versione modificata della realtà. Può creare aspettative e confronti non realistici. Non dovremmo paragonare la nostra vita quotidiana ai momenti accuratamente curati dagli altri. Tutti abbiamo alti e bassi, anche se non sono sempre visibili. È essenziale concentrarsi sul proprio viaggio e sui propri progressi. Il confronto può portare a sentimenti di inadeguatezza e insicurezza. Dovremmo invece celebrare i nostri successi e la nostra crescita. Si tratta di trovare appagamento e gratitudine per ciò che abbiamo. Possiamo trarre ispirazione dalle realizzazioni altrui senza sminuire le nostre. Ricordando che ognuno ha le proprie lotte e sfide. Dietro le quinte, spesso succede più di quanto sembri. È importante praticare l'empatia e la comprensione. Sostenersi ed edificarsi a vicenda è più significativo del confronto. Dovremmo coltivare una mentalità positiva e concentrarci sul nostro viaggio. I paragoni possono ostacolare il nostro progresso e la nostra felicità. Si tratta di abbracciare la nostra unicità e celebrare il nostro percorso. Ricordiamoci di essere gentili con noi stessi e con gli altri. Assolutamente, Anna. Dobbiamo apprezzare il nostro viaggio e accontentarci di ciò che siamo. Ben detto, John. Abbracciamo l'autenticità e troviamo gioia nelle nostre storie. Grazie per questo, Anna. Ci auguriamo di ricordare sempre che vale la pena celebrare il nostro viaggio. Salute, John. Sfruttiamo al massimo le nostre avventure uniche. Davvero, Anna. Godiamoci il momento presente e apprezziamo i nostri momenti salienti. Assolutamente, John. La vita è fatta di piccoli momenti che rendono significativa la nostra storia. Ben detto, Anna. Creiamo le nostre narrazioni belle e autentiche. Non potrei essere più d'accordo, John. Non vediamo l'ora di vivere le nostre vite straordinarie. Salute, Anna. Andiamola fuori e facciamo in modo che ogni momento conti. Vuoi vedere un film? Ho sentito che c'è una nuova commedia a teatro. Certo, ho voglia di ridere. Come si intitola il film? Si chiama LaFryot. Le recensioni sono state davvero positive. Sembra fantastico. Quando suona? Lo proietta stasera alle 19. È disponibile? Sì, non ho programmi per stasera. Conta su di me. Perfetto. Incontriamoci a teatro intorno alle 18.45. Sembra un piano. Ci vediamo lì. Sei mai stato in quel teatro? Il parcheggio è facile da trovare? Sì, ci sono stato. Hanno un parcheggio, quindi non dovrebbe essere un problema. È bello saperlo. Cercherò di arrivare un po' prima per assicurarmi un posto. È sempre meglio arrivare in anticipo che affrettarsi all'ultimo minuto. Assolutamente. Prenderò i biglietti in anticipo per evitare le code. Questo è premuroso da parte tua. Ci farà risparmiare tempo. Vuoi mangiare un boccone veloce prima del film? Certo, sono pronto. C'è una pizzeria nelle vicinanze. Ci andiamo? Sembra delizioso. Ci vediamo alla pizzeria intorno alle 17.30. Ci vediamo lì, John. Non vedo l'ora che arrivi il film e una gustosa pizza. Anch'io, Anna. Sarà una serata divertente. Non vedo l'ora. A presto, John. A presto, Anna. Goditi il resto della giornata. Anche tu, John. Abbi cura di te. Arrivederci per ora. Lezione 11. Esplorando la città. Andiamo al parco a piedi. Da lì, di solito, ci vogliono circa 20 minuti. Sembra un piano. Mi piace passeggiare ed esplorare la città. È una bella giornata fuori. Perfetto per una piacevole passeggiata. Sono d'accordo il sole e l'aria fresca sono tonificanti. Possiamo prendere una strada panoramica attraverso il centro della città. Sembra adorabile. Sono entusiasta di vedere cosa troveremo. Ci sono alcuni negozi e caffè affascinanti lungo la strada. Sono sempre pronto a scoprire nuovi posti da visitare. Potremmo persino imbatterci in alcuni artisti o artisti di strada. Sarebbe una deliziosa sorpresa. Adoro conoscere i talenti locali. Il parco in cui ci stiamo dirigendo ha un bellissimo laghetto e sentieri escursionistici. Sembra pacifico. La natura ringiovanisce sempre. Possiamo prenderci il nostro tempo e goderci la tranquillità dei dintorni. E' una bella pausa dal trambusto della città. Inoltre, è un'ottima opportunità per avere una buona conversazione. Assolutamente. Camminare insieme consente connessioni significative. Possiamo anche scattare alcune foto per catturare i ricordi. E' un'idea meravigliosa. Documentiamo la nostra piccola avventura. E chissà, potremmo scoprire delle gemme nascoste lungo la strada. Questo è il bello dell'esplorazione. C'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire. Sono contento che abbiamo deciso di fare questa passeggiata. E' un rinfrescante cambio di ritmo. Anch'io, John. Sono i momenti semplici che rendono la vita piacevole. Abbracciamo il viaggio e sfruttiamo al massimo questa bella giornata. Non potrei essere più d'accordo, John. Creiamo dei bellissimi ricordi. Davvero, Anna. Facciamo tesoro del presente e godiamoci la passeggiata. Assolutamente, John. Immergiamoci nella bellezza della città e creiamo ricordi indelebili. Ben detto, Anna. Iniziamo la nostra avventura e godiamoci ogni passo. Sono emozionata, John. Sfruttiamo al massimo questa splendida giornata. Andiamo, Anna. La nostra città ci aspetta. Lezione 12. Scegliere una destinazione di viaggio. Ci sono così tante opzioni. Ti interessano l'Asia, l'Europa o il Sud America? Sono aperto a qualsiasi di queste regioni. Ognuna ha il suo fascino unico. L'Asia offre ricche esperienze culturali e una cucina deliziosa. Sembra allettante. Ho sempre desiderato visitare il Giappone o la Thailandia. L'Europa ha un'architettura straordinaria e una ricca storia. Mi piacerebbe esplorare città come Parigi o Roma. Il Sud America ha paesaggi mozzafiato e culture vivaci. Machu Picchu in Peru, e le spiagge del Brasile sono nella mia lista dei desideri. È una decisione difficile. Ogni destinazione ha il suo fascino. Forse possiamo restringere il campo considerando i nostri interessi. Questa è una buona idea. Qual è la cosa che ti appassiona di più? Adoro immergermi in culture diverse e provare nuovi cibi. In tal caso, l'Asia potrebbe essere un'ottima scelta per te. Vero. Le diverse cucine e tradizioni sarebbero affascinanti da esplorare. Personalmente, sono attratto dai monumenti storici e dall'arte in Europa. L'Europa ha una ricchezza di tesori culturali da scoprire. Il Sud America offre avventure e meraviglie naturali. Sarebbe incredibile fare un'escursione nella foresta pluviale amazonica o visitare le isole Galapagos. Potremmo anche prendere in considerazione fattori come il budget e la logistica di viaggio. Questo è importante da considerare. Dovremmo ricercare i requisiti per i visti e le opzioni di volo. Raccogliamo maggiori informazioni e prendiamo una decisione informata. Concordato. Vogliamo assicurarci che sia un viaggio memorabile e piacevole. Una volta deciso, possiamo iniziare a pianificare l'itinerario e prenotare gli alloggi. Sono entusiasta delle possibilità. Sarà un'avventura incredibile. Davvero, Anna? Non vedo l'ora di intraprendere questo viaggio insieme. Facciamo la nostra ricerca e scegliamo una destinazione che ci parli al cuore. Assolutamente, Anna. Alla nostra prossima avventura di viaggio. Salute, John. Che sia pieno di esperienze indimenticabili e ricordi per tutta la vita. Salute, Anna. Che l'avventura abbia inizio. Lezione 13 Elementi essenziali dell'aromaterapia Ho sentito che gli oli sono utili. Ne usi qualcuno? Sì, adoro usare gli oli essenziali. Hanno molti usi. Sono interessato a provare l'olio di lavanda. Ho sentito che è calmante. L'olio di lavanda è infatti noto per le sue proprietà rilassanti. Dove possiamo trovare l'olio di lavanda? È disponibile qui? Possiamo controllare le health store. Di solito hanno una varietà di oli. Questo è conveniente. Andiamo lì e cerchiamo dell'olio di lavanda. Ottima idea! L'olio di lavanda è una scelta popolare per i suoi effetti calmanti. Hai qualche consiglio su marchi specifici? Personalmente mi piace l'olio di lavanda biologico, e puro di un marchio locale. Lo terrò a mente. Preferisco prodotti naturali e di alta qualità. È sempre una buona idea leggere le etichette e controllare gli ingredienti. Mi assicurerò di cercare olio di lavanda puro senza additivi. Questo è importante per ottenere tutti i benefici dell'olio. Ci sono altri oli che consiglieresti? L'olio di menta piperita è ottimo per il mal di testa e aumenta l'energia. Prenderò in considerazione anche l'olio di menta piperita. Grazie per il suggerimento. Come si usa l'olio di lavanda per i suoi effetti calmanti? Puoi aggiungere qualche goccia o un diffusore o mescolarlo con un olio vettore per il massaggio. Sembra abbastanza semplice. Non vedo l'ora di provarlo. Ricorda solo di diluirlo correttamente prima di applicarlo sulla pelle. Lo terrò a mente. La sicurezza è importante quando si usano oli essenziali. Assolutamente. È meglio seguire le istruzioni e le linee guida. Sono entusiasta di incorporare l'olio di lavanda nella mia routine quotidiana. È un'aggiunta meravigliosa per il relax e la cura di sé. Andiamo al centro benessere e troviamo l'olio di lavanda di cui abbiamo bisogno. Sembra un piano. Sono sicuro che troveremo quello che stiamo cercando. Grazie per la tua guida, Anna. Lo apprezzo. Benvenuto, John. Godiamoci insieme i benefici degli oli essenziali. D'accordo, Anna. Verso uno stile di vita più calmo e pacifico. Salute, John. Possa l'olio di lavanda portare tranquillità alle nostre vite. Salute, Anna. Iniziamo insieme questo viaggio aromatico. Lezione 14. Dare priorità alla cura di sé. Ricaricarsi ed evitare il burnout, è intelligente. È fondamentale prendersi cura. Assolutamente. La cura di sé è essenziale per il nostro benessere generale. Quali sono alcune pratiche di cura di sé che trovi utili? Mi piace fare passeggiate nella natura e praticare la consapevolezza. Sembrano ottimi modi per rilassarsi e distendersi. È importante trovare attività che ci portino gioia e pace. Sono d'accordo come trovi il tempo per la cura di te nella tua routine quotidiana? Do priorità alla cura di sé dedicando del tempo dedicato ogni giorno. Questo è un buon approccio. Assicura che non venga trascurato. Quali sono alcuni segnali che indicano che dobbiamo concentrarci sulla cura di sé? Sentirsi costantemente stressati, esausti o irritabili sono bandiere rosse. È fondamentale prestare attenzione al nostro benessere mentale e fisico. Assolutamente. Prenderci cura di noi stessi ci permette di mostrarci pienamente nella vita. Quali sono alcune semplici pratiche di cura di sé che possono essere facilmente incorporate? Esercizi di respirazione profonda, pause e sonno a sufficienza. Vedo come queste pratiche possano fare una differenza significativa. Si tratta di trovare ciò che funziona per te e renderlo un'abitudine. Mi assicurerò di dare priorità alla cura di sé in futuro. È bello sentirlo, John. Te lo meriti. Grazie Anna. Meritiamo tutti di prenderci cura di noi stessi. Ricorda, la cura di sé non è egoista, è necessaria. Lo terrò a mente. Verso una vita più sana e felice. Salute, John. Che la cura di sé sia una costante nella nostra vita. Salute, Anna. Facciamo della cura di sé una pratica non negoziabile. Lezione 15, condivisione delle informazioni di contatto. Certo, il mio numero di telefono è 123456789O. Ottimo, fammelo salvare nel telefono. Grazie John. Benvenuta, Anna. Sentitevi liberi di contattarmi in qualsiasi momento. Lo farò. Ecco il mio numero, 987654321. Grazie Anna. Mi assicurerò di salvarlo anche io. È sempre bene avere a portata di mano le informazioni di contatto reciproche. Assolutamente, rende molto più facile rimanere in contatto. A proposito, hai un account sui social media? Sì, sono su Instagram. Il mio nome utente è john2123. Ti darò un seguito. Il mio nome utente è annasmith456. Fantastico, non vedo l'ora di connettermi con te su Instagram. Anch'io, John. È una piattaforma divertente per condividere momenti. Sicuramente, è un ottimo modo per rimanere connessi virtualmente. A proposito, usi qualche app di messaggistica? Sì, uso WhatsApp. È comodo per le comunicazioni internazionali. È bello saperlo. Anch'io ho WhatsApp, così possiamo shattare facilmente. Perfetto, Anna. Assicuriamoci di essere connessi anche su WhatsApp. D'accordo, John. È importante avere diversi modi per rimanere in contatto. Assolutamente, Anna. La comunicazione è fondamentale per costruire relazioni. Sono lieto che oggi ci siamo scambiati i nostri dati di contatto. Anch'io, Anna. È l'inizio di una nuova amicizia. Sono felice di conoscerti meglio, John. Allo stesso modo, Anna. Restiamo connessi e creiamo fantastici ricordi. Sembra un piano, John. A presto con la nostra nuova amicizia. Salute, Anna. Che il nostro legame si rafforzi con il tempo. Salute, John. Iniziamo insieme questo viaggio di amicizia. Davvero, Anna. Un brindisi a nuovi inizi e a connessioni significative. Lezione 16, curiosità e apprendimento. Ho così tante domande. L'apprendimento è affascinante. Assolutamente. La curiosità è la porta d'accesso alla conoscenza. Come posso coltivare la curiosità nella mia vita quotidiana? Mantieni una mentalità aperta e non smettere mai di fare domande. Questo è un buon punto. Cercherò di abbracciare una mentalità curiosa. È un modo meraviglioso per esplorare nuove idee e prospettive. Dove posso trovare le risposte alle mie domande? La biblioteca è un ottimo punto di partenza. È un tesoro di conoscenze. Allora mi assicurerò di passare più tempo in biblioteca. Puoi anche rivolgerti a internet per informazioni rapide e accessibili. Questo è vero. Anche internet offre una vasta gamma di risorse. Ricordati di verificare e verificare le informazioni da fonti affidabili. Buon consiglio il pensiero critico è essenziale nell'era digitale. Come posso accendere la mia curiosità su argomenti che non conosco? Inizia esplorando libri, articoli o documentari correlati. Amplierò i miei orizzonti e approfondirò nuovi argomenti. Questo è lo spirito, John. Scopri la gioia dell'apprendimento permanente. C'è qualche argomento particolare che ti incuriosisce? Sono sempre affascinato dalla psicologia e dalla storia del mondo. Sono argomenti affascinanti. Li esplorerò anche io. È emozionante intraprendere avventure intellettuali insieme. Davvero, Anna. Soddisfiamo la nostra sete di conoscenza. Ricorda che c'è sempre altro da imparare e scoprire. Lo terrò a mente. Ecco un viaggio curioso e illuminato. Salute, John. Che la nostra ricerca della conoscenza sia infinita. Salute, Anna. Accogliamo la curiosità e scopriamo i misteri del mondo. Assolutamente, John. La curiosità è la chiave per una vita appagante. D'accordo, Anna. Continuiamo a chiedere, esplorare e crescere insieme. Lezione 17. Esplorazione di nuovi hobby. Sto pensando di provare nuovi hobby. È emozionante. Quali hobby stai considerando? Mi interessa la fotografia e suonare la chitarra. Sembrano scelte meravigliose. Buona fortuna con i tuoi nuovi hobby. Grazie, Anna. Non vedo l'ora di esplorarli. La fotografia può catturare momenti belli e raccontare storie. Adoro l'idea di conservare i ricordi attraverso le fotografie. È uno sbocco creativo che ti permette di vedere il mondo in modo diverso. E suonare la chitarra può portare tanta gioia ed espressione. La musica ha un modo per toccare le nostre anime e connettere le persone. Sono entusiasta di imparare gli accordi e suonare le mie canzoni preferite. Svilupperai una nuova abilità e creerai le tue melodie. Hai qualche hobby che ti appassiona? Mi piace dipingere e praticare yoga nel tempo libero. La pittura deve essere un ottimo modo per liberare la tua creatività. Sì, è terapeutico e mi permette di esprimermi. Che ne dici dello yoga? Quali benefici apporta? Lo yoga mi aiuta a trovare equilibrio, forza e pace interiore. Sembra incredibile. Potrei provare anche io lo yoga. Vale la pena esplorarlo. Lo yoga offre benefici sia fisici che mentali. Grazie per averlo condiviso, Anna. Apprezzo le tue intuizioni. Benvenuto, John. Sono qui per sostenere i tuoi nuovi hobby. Avere amici solidali rende il viaggio ancora più piacevole. Sicuramente, John. Incoraggiamoci a vicenda nelle nostre attività. Assolutamente, Anna. Un brindisi ad abbracciare nuovi hobby e passioni. Salute, John. Che i nostri hobby ci portino soddisfazione e felicità. Salute, Anna. Cominciamo insieme questo viaggio alla scoperta di noi stessi. Davvero, John. Buona fortuna con la tua fotografia e il tuo modo di suonare la chitarra. Grazie, Anna. Ti auguro una gioia continua nella pittura e nello yoga. Lezione 18. Abbracciare la natura. Sì, sono stato in campeggio alcune volte. È così rinfrescante stare nella natura. Sono d'accordo, John. C'è qualcosa di rigenerante nei grandi spazi aperti. L'aria fresca e l'ambiente tranquillo sono davvero rivitalizzanti. Essere circondati dagli alberi e ascoltare i suoni della natura è rilassante. È una pausa dal trambusto della vita cittadina. Adoro disconnettermi dalla tecnologia e abbracciare la semplicità. Il campeggio ci permette di apprezzare la bellezza del mondo naturale. Ed è un'occasione per dedicarsi ad attività all'aperto come l'escursionismo o la pesca. Esplorare sentieri e scoprire gemme nascoste è sempre emozionante. Inoltre, sedersi attorno a un falò e condividere storie è commovente. È una grande opportunità per entrare in contatto con amici e persone care. E osservare le stelle di notte è semplicemente mozzafiato. Il cielo notturno ci ricorda la vastità e la meraviglia dell'universo. Hai mai provato a campeggiare vicino a un lago o sulla spiaggia? Sì, mi sono già accampato vicino a un lago. È stata un'esperienza serena. L'acqua aggiunge un ulteriore elemento di tranquillità al viaggio in campeggio. Assolutamente, Anna. È un'occasione per entrare in contatto con la natura a un livello più profondo. Non vedo l'ora di iniziare la mia prossima avventura in campeggio. È un'avventura che ci avvicina alla bellezza della terra. La natura ha tanto da offrire e il campeggio ci permette di abbracciarla a pieno. Assicuriamoci di dare la priorità al tempo trascorso nella natura ogni volta che possiamo. D'accordo, John. Creiamo ricordi duraturi all'aria aperta. Ecco altre gite in campeggio ed esperienze memorabili nella natura. Salute, John. Speriamo di trovare sempre conforto e gioia nel deserto. Salute, Anna. Apprezziamo i momenti trascorsi nell'abbraccio della natura. Lezione 19. Spuntini da viaggio I viaggi in auto sono molto divertenti, non credi? Sicuramente, John. È un ottimo modo per esplorare nuovi posti. E l'entusiasmo aumenta man mano che ci avviamo verso la strada aperta. È un'avventura piena di aspettative e sorprese. Ma sai cosa amo di più dei viaggi in auto? Cosa c'è, John? Gli snack. Soprattutto quando ho fame durante il viaggio. Oh, posso capirlo benissimo. Gli snack rendono il viaggio ancora migliore. Mi piace confezionare una varietà di snack per gusti diversi. È un'idea intelligente. Quali sono alcuni dei tuoi snack preferiti? Ho sempre un sacchetto di noci miste e frutta secca. Le noci e la frutta sono salutari e forniscono energia sostenuta. E, naturalmente, alcuni snack salati come patatine o salatini. Devo avere qualcosa di croccante e soddisfacente. Mi piace anche portare con me dei panini fatti in casa. I panini sono convenienti e possono essere abbastanza sazianti. E per un dolce regalo, metto in valigia delle barrette di cioccolato o musli. Sono perfetti per soddisfare i più golosi. Che mi dici, Anna? Quali snack ti piacciono durante le gite in auto? Sono un fan del trail mix con noci, semi e cioccolato. Il trail mix è una scelta classica, sempre apprezzata dal pubblico. Mi piace anche portare frutta fresca come mele e arance. La frutta è rinfrescante e idratante durante il viaggio. E per un'opzione salata, metto in valigia formaggio e cracker. Sembra delizioso. Un buon equilibrio di sapori. Si tratta solo di avere spuntini che ti piacciono e ti mantengono alimentato. Assolutamente, Anna. Gli snack arricchiscono l'esperienza complessiva del viaggio. Sicuramente rendono il viaggio più piacevole. Ecco gustosi snack da viaggio e avventure memorabili. Salute, John. Che i nostri snack ci mantengano soddisfatti lungo la strada. Salute, Anna. Concediamoci deliziose prelibatezze durante il nostro prossimo viaggio. Davvero, John. L'ora della merenda è una parte essenziale del divertimento del viaggio. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Facciamo uno spuntino e creiamo ricordi indelebili. Lezione 20 Esplorando la cucina Qual è la tua cucina preferita, Anna? Adoro il cibo italiano, soprattutto la pasta. La cucina italiana è davvero deliziosa. La pasta ha tante varianti. È versatile e confortevole. Un piatto da non mancare per me. Hai un tipo di pasta preferito? Mi piacciono gli spaghetti alla marinara e le polpette. Scelta classica. Gli spaghetti sono sempre un piacere per la folla. Tu che ne pensi, John? Qual è la tua cucina preferita? Sono un fan del cibo messicano, specialmente dei tacos. I tacos sono saporiti e confezionati con ingredienti diversi. Adoro la combinazione di carni salate e condimenti freschi. La cucina messicana ha un profilo aromatico vivace e speziato. È vero, Anna. Le spezie aggiungono un tocco in più ai piatti. Hai mai provato altri tipi di cucina? Sì, mi è piaciuta anche la cucina cinese e tailandese. La cucina cinese offre un'ampia varietà di sapori e consistenze. E il cibo tailandese ha un perfetto equilibrio tra dolce e piccante. Esplorare cucine diverse è come un'avventura culinaria. Apre i nostri palati a nuovi gusti ed esperienze. Assolutamente, John. Il cibo è un linguaggio culturale universale. È un modo per entrare in contatto con persone di diversa estrazione. Ed è incredibile come il cibo possa evocare ricordi ed emozioni. Condividere un pasto unisce le persone in un modo speciale. È il momento di godersi la buona compagnia e i sapori deliziosi. Continuiamo a esplorare le cucine e a provare nuovi piatti. D'accordo, John. Il mondo è pieno di delizie culinarie da scoprire. Ecco ad abbracciare i sapori di tutto il mondo. Salute, John. Che le nostre papille gustative siano sempre curiose. Salute, Anna. Assaporiamo la ricchezza delle diverse cucine. Davvero, John. Buon appetito e buone avventure culinarie. Grazie, Anna. Concediamoci le gioie del cibo e dei sapori. Lezione 21 Maratona cinematografica del fine settimana Allora, quali sono i tuoi piani per il weekend, Anna? Sto pensando di fare una maratona cinematografica. Sembra un modo accogliente e rilassante per trascorrere il fine settimana. Sono d'accordo adoro perdermi in storie e generi diversi. Quali film hai intenzione di guardare? Ho in mente alcuni classici, come Casablanca e Via Colvento. Scelte eccellenti. Quei film sono senza tempo. Voglio anche aggiornarmi su alcune versioni recenti. Qualche genere specifico per cui sei dell'umore giusto? Ho voglia di un mix di commedia, dramma e azione. È una buona varietà per mantenere le cose interessanti. È bello passare da emozioni e trame diverse. Preferisci guardare film da solo o in compagnia? Mi piacciono entrambi, ma per questa maratona starò a guardare da solo. A volte è bello avere un po' di tempo per se stessi. Esattamente, John. È un'occasione per rilassarsi e distendersi. Hai intenzione di mangiare qualcosa durante la maratona cinematografica? Certo. Popcorn e cioccolato sono un must. Snack da film classici. Con quelli non si può sbagliare. Tu che ne pensi, John? Avete piani per il weekend? Potrei leggere un po' e andare a fare un'escursione. Sembra una miscela perfetta di relax e avventura. È importante bilanciare le attività ricreative con un po' di attività fisica. Assolutamente. Ci mantiene rinfrescati ed energizzati. Beh, goditi la tua maratona cinematografica, Anna. Sembra un ottimo piano per il fine settimana. Grazie, John. Spero che anche tu trascorra un fantastico weekend. Riuniamoci nuovamente e condividiamo le nostre esperienze cinematografiche ed escursionistiche la prossima settimana. Sembra un piano, John. Non vedo l'ora. Ti auguro un fantastico weekend, Anna. Anche tu, John. Goditi la lettura e fai un'escursione. Grazie, Anna. Abbi cura di te e goditi i film. Lezione 22 L'importanza di un buon servizio clienti Un buon servizio clienti fa la differenza, non credi, Anna? Assolutamente, John. Lascia un'impressione duratura. Quando il personale è cordiale e attento, migliora l'esperienza complessiva. Ci fa sentire apprezzati e apprezzati come clienti. Apprezzo quando dedicano del tempo ad ascoltare le mie esigenze. Dimostra che si preoccupano sinceramente di fornire un buon servizio. Esattamente, Anna. Un buon servizio clienti consiste nel costruire relazioni. Crea una connessione positiva tra l'azienda e il cliente. E ci incoraggia a diventare clienti abituali. Quando riceviamo un servizio eccellente, è più probabile che ritorniamo. Sono le piccole cose che fanno una grande differenza, come un caloroso saluto. Un sorriso amichevole può rallegrare la nostra giornata. E quando fanno di tutto per risolvere qualsiasi problema, è impressionante. Dimostra il loro impegno a garantire la soddisfazione del cliente. Un buon servizio clienti si estende anche a una comunicazione efficace. Una comunicazione chiara e tempestiva aiuta a evitare malintesi. E rende l'intera esperienza più fluida e piacevole. E' importante che le aziende investano nella formazione del personale. Una formazione adeguata fornisce loro le competenze per fornire un servizio eccezionale. E crea una reputazione positiva per l'azienda. Le raccomandazioni basate sul passaparola sono potenti. Possono creare o distruggere un'azienda. Così vero, Anna. Un buon servizio clienti è vantaggioso per tutti i soggetti coinvolti. Crea un'atmosfera positiva sia per i clienti che per i dipendenti. E favorisce la lealtà e la fiducia tra le due parti. Apprezziamo le aziende che danno priorità a un buon servizio clienti. Assolutamente, Anna. Meritano il nostro sostegno e il nostro riconoscimento. Ecco le aziende che fanno il possibile per i propri clienti. Salute, Anna. Che un buon servizio clienti continui a prosperare. Salute, John. Sosteniamo le esperienze eccezionali dei clienti. Davvero, Anna. Insieme possiamo fare la differenza nel settore dei servizi. Sosteniamo le esperienze eccezionali dei clienti.